E' uguale per l'anno scorso di squadre B Perché si chiudava in serata d'Obson E si sta qui! Non fatelo Bravo! Vai figa de tomare Vai figa de tomare E' un figlio che ho fatto Allora, cominciamo Cecilia E' la mia inspirazione Perché si bella a essa parte Quando io ho detto Cecilia Ho tenuto conto che anche In crisi anche i beneditti esiste E poi va con brazo Bosch Kajansk E tutto è Tutant Tutant E' un'altra cosa E' una cosa Danna tre C'è anche Vedi 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 I Le Vedi E poi la tua frase è una tappa costella come Florida Inn, in stradale, e lei si sa comprare una montagna o una casa, le stanze, e appunto ti prendi conto che la crisi esiste per tutti. Diego. Diego fanno lavoro con i cinesi, che lo chiamano Diego San, l'italiano San Diego, protettore dei cinesi di Corella, dei cinesi che lavora 20 ore e 4 straordinarie, e degli stramati cinesi. E lei è partita dal Ponte Ongo, che era un po' letto, adesso è andato a abitare in centro a Padova, e secondo me si è accettato Piva, e con Ugo, però ora non c'è stata una grande idea, Piva nel poemico con Ugo. Diego, se la città, perché viene presente il caffè al giorno, probabilmente, e Ugo, non c'è a posto, il cane pazzo, Ugo, è... Certo, il cane pazzo, è sempre più spagliato, non si fa spagliato. E' un cane pazzo, è bello, città, tenisci, è vero, sempre sta... Ora, un serio, è stato quasi un po' letto, ma mostra... Un altro grande amico mostra, sempre un aristocrata, mi porto sembra una figa nuova, al contrario del... Mostra il simbolo del pregrado dell'universo Tamp, del settembre scolato, perché non funziona... Dei valori dell'amicizia e dell'onore... Più provvigioni... Più provvigioni... Più vedete quella tutta e aud welcome... La ricorda anche mia madre! Enrico こ... Sento un pezzo... LF del West, sento il track son pazzo, sposto come un gatto e suona, e vedo un air sincero e suona, e vedo un pezzo con un papello e un cappetto che è sotto da una persona che suona. Udia, stanno andando a me, grazie. Mi prima odiavo tanto gli americani, perché come non sapevi l'odio, carta grande, panini grandi, macchine grandi, i ebrei. Sto ovviamente i ragionanti. La tele partia dal Brasil per venire in Italia, a pioce il sacco, e a rile. Poi capire perché? Ma che cazzo che era il tuo mese? Tu sono un pollo, sono un amico che era il tuo mese. Tante auguri a tutti e buon anno. Grazie a tutti.